Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Tessimo Alessandra ed oggi mi trovo qui nell'azienda agricola Falerni e vi vogliamo far vedere come si prepara la terra prima di seminare le patate allora praticamente abbiamo arato il terreno poi abbiamo fresato, vi ricordate i video precedenti e poi sta ripassando la terra con un piccolo trattorino perché quando si va a fresare la terra rimangono dei piccoli colli e quindi per seminare meglio le patate si ripassa con questo metodo qui ok? Vedete? è molto faticoso perché con questo mezzo così piccolo bisogna fare tanto terreno quindi ci vogliono giorni e giorni di lavoro per ripassarlo tutto affinché le patate vengono seminate nel migliore dei modi